Prestazione di carattere per l'Amen Scuola Baschettarezzo che ritorna al successo in campionato battendo a domicilio il Costone Siena. Risultato importante per il morale e la classifica. L'inizio partita della SBA è molto determinato costringendo al time out la panchina del Costone. I padroni di casa punto su punto riescono a rientrare impattando il punteggio a quota 18 a fine primo quarto. La partita prosegue in equilibrio, poi sono i padroni di casa a portarsi sul più 7 a 3 minuti dall'intervallo. L'Amen reagisce così a fine secondo quarto le due squadre sono di nuovo in parità a quota 40. Il break decisivo arriva e rientra in campo dagli spogliatoi. Due triple di Toia ed una di Fornara spingono i Amaranto a più 8 con la formazione senese che sbatte sulla difesa Amaranto che tiene duro. Tanto che la terza sirena alla SBA si trova in vantaggio sul 62-52. L'Amen è concentrata e gestisce bene il vantaggio che tocca anche 17 punti. Ancora Fornara dalla distanza porta Iaretini a quota 85. Il Costone riesce negli ultimi due minuti a ricucire lo svantaggio solamente per fissare il punteggio finale sull'85-75 per il quintetto di cocce evangelisti. Un bel successo per l'Amen in un campo storicamente difficile. La SBA sabato prossimo tornerà al palaestra per ospitare la Toscana Food Livorno, formazione che nell'ultimo turno ha messo in difficoltà Prato, seconda in classifica. Grazie a tutti.